Le problematiche legate all'elettrosensibilità, la patologia ambientale correlata all'inquinamento elettromagnetico, sono in aumento. Centinaia di studi scientifici evidenziano rischio di tumori, danni al DNA, disturbi neurologici, alterazioni cardiache e del sistema riproduttivo, cambiamenti ormonali, elettrosensibilità, deficit di apprendimento e memoria, disturbi comportamentali. Tali effetti si manifestano a livelli di esposizione di gran lunga inferiori ai limiti di legge italiani. L'implementazione che si concretizza con la richiesta ai vari comuni di installare delle stazioni radiobase, magari delle antenne in genere aggiuntivo, oppure addirittura nuove antenne, di fatto sta velocemente, in modo molto ben organizzato da parte delle città di telefonia, coinvolgendo poi tutto il territorio. Per questo l'Associazione per la Prevenzione e la lotta all'elettrosmog, quella dei medici per l'ambiente e degli elettrosensibili e delle malattie e intossicazione cronica e ambientale, hanno inviato alle massime cariche dello Stato la lettera con ampia documentazione scientifica per richiamare l'attenzione sulla necessità di non aumentare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici vigenti in Italia. Limiti che, pur essendo inferiori a quelli di alcune nazioni, non tutelano dagli effetti biologici e sanitari dovuto all'esposizione prolungata. La lettera fino ad ora non ha ricevuto alcuna risposta. Di fatto si va ad aggiungere un enorme numero, anche se vogliamo, di antenne più vicine, per cui c'è certo un incremento e sensibile del livello di elettromagnetismo. I bambini, come afferma l'Associazione dei Pediatri Statunitensi, non sono dei piccoli adulti e, a parità di esposizione, subiscono maggiormente gli effetti di tutti gli inquinanti ambientali, compresi i campi elettromagnetici artificiali. Ciò è dovuto al fatto che i loro corpi sono più piccoli, le ossa del cranio sono più sottili, la massa encefalica è minore, quindi è soggetta a maggior penetrazione e diffusione delle radiazioni. Con la didattica distanza dell'ultimo anno, poi, le criticità sono aumentate. Ogni casa è diventato un guscio, un guscio vero e proprio pieno di wifi e di radiofrequente che rimbalzano all'interno delle pareti con i danni relativi.